Allora, ben trovati nuovamente parte 2, il cane è fuori, gli fa un giretto quindi è contento e via. Allora, per quanto riguarda invece la carta degli inserti, partiamo da ricicli un po' particolari. Allora, visto che ce l'ho qui, se voi trovate questa tipologia di brochure illustrative, libretti, questo è dedicato al vino, se vi capita che andate in qualche fiera, festa, eccetera, non buttateli via, perché si può arrivare a quello che io chiamo il riciclo estremo. Poi vi metto sotto il video di un canale straniero, di una signora che fa dei junk journal, credo che si pronunci in questo modo, quindi cosiddetti giornali, spazzature, utilizzando proprio carte di riciclo, con di tutto e di più. Anche il cartoncino della scelta delle pizze, il menu, ecco, vi fa vedere poi come fa. È un modo molto artistico, molto particolare e anche un po' laborioso, nel senso che non avete la pagina classica bianca dove scrivere immediatamente, bisogna un po', come dire, rielaborarla. Ecco, in pratica che cos'è? È l'unione di tutte carte stampate, quindi con diverse immagini scritte, eccetera, come può essere questo? e l'utilizza come se fosse un inserto. In che modo? Nelle parti bianche si può scrivere, ovviamente, nelle parti dove c'è invece l'impossibilità di scrivere, non so, per esempio qua si può scrivere, qui si può tenere questa bella immagine, in questo caso lei prende della carta, un foglio di carta, e lo incolla sopra e ci scrive con lo sfondo. È un altro modo di vedere l'inserto, non lo so, non so se forse è congeniale, però se avete tanta carta in casa, anche dei volantini per i vari supermercati, oppure andate a qualche mostra, eccetera, è un modo per mantenere la carta, come ricordo, e di sopra scriverci, eccetera. È un modo molto creativo, c'è chi prende un inserto bianco, con fogli bianchi, e poi inizia a un po' colorarli, un po' a timbrarli, un po' a appiccicarci sulle cose, qui invece è un po' a ragionamento inverso, c'è già un qualcosa di colorato e, diciamo così, figurativo, ecco, e dovete trovare il modo invece di scriverci, non è il modo di colorarlo, ma è il modo proprio di scriverci. Questo, questi opuscoli, adesso ho questo, però può essere anche, ad esempio, un... vabbè, lo vediamo dopo. Anche questi qua, ecco, che sono fatti in questo modo, per esempio lei cosa fa? Questo è proprio della dimensione quasi giusta, prende l'inserto, prende tutti questi, e poi o li taglia e fa due pagine, incollando l'uno dentro l'altro, oppure prende, spero che si capisca, questo, poi mette dentro questo, eccetera, eccetera, e poi alla fine lei avrà una pagina che si apre a soffietto, in questo modo, dove poi va a scrivere, eccetera. È un po' una sorta di scrap junk, junk scrap, ecco, rielaboriamo il termine. Cioè, è una sorta di arte scrap di spazzatura, utilizzando del materiale di riciclo, forse è più elegante, detto così, e anche più comprensibile. Comunque, questi sono già degli inserti, di fatto, nel senso che questo è un formato A5, e quindi è già rilegato, la parte che avete già la vostra copertina, e quindi potreste già addirittura usarlo. In che modo? Come dicevo, incollando diverse tipologie di carta, un pezzo di carta bianca, un pezzo di carta colorata, a righe, eccetera, eccetera, e avete di fatto già un modo per riciclare, fare un inserto assolutamente originale, poi qui potete incollare, abbellire, eccetera. Oppure, questi inserti sono ottimi, perché sono a tema. Ad esempio, questo cartoncino è magnifico, dietro c'è questo grappolo, stilizzato, e all'interno è un grigio perlato, quindi si possono ritagliare, fare dei cartoncini, delle carte, dei tag, facendo il buco, eccetera. quindi studiateli con attenzione, perché davvero danno molti spunti. Poi, se fate degli inserti o degli album a tema, ad esempio, vostro marito è appassionato di vini, o voi siete appassionati di vino, dovete fare un regalo per qualcuno appassionato di vino, avete delle immagini con la distribuzione di vigneti particolari, sull'Italia, quindi un'immagine che si può utilizzare. All'interno qui ci sono moltissime immagini di etichette di vino, e sono anche belli da ritagliare, da usare come se fossero degli stickers, cioè degli adesivi. Io non amo molto gli stickers, se li trovo a buon prezzo e li compro, a buon prezzo secondo me sono da 0,50 a 0,80 centesimi, non vado a spendere a meno che non debba fare dei regali, ovviamente, ma io amo molto il modo creativo di ricavarmi sia gli adesivi, quindi gli stickers, ovviamente devo munirmi di colla, e quindi l'investimento è il tubetto di colla, oppure anche delle strisce di washi tape, che poi magari vi faccio vedere come. Quindi, un modo per riciclare queste, ho già l'inserto in sé, o utilizzarlo nelle sue parti per elementi decorativi, cartoncini e cose di questo tipo. Poi, non buttate via, o comunque andate a ripescare, quelli che possono essere dei vecchi quaderni, questo è un vecchio quaderno che avevo, che si è devastato, e di conseguenza ho preso la carta, che è una carta molto bella, giallina, eccetera, ancora, vostro marito, voi, oppure in casa qualcuno, usa delle agende, della Quovadis, solitamente viene utilizzata l'agenda, ma non viene utilizzata la rubrica, che ormai la rubrica non la usa più nessuno. Se voi notate, molti di questi formati, sono già ottimi, per fare degli inserti, ad esempio, prendiamo, questa è una copertina, quindi abbiamo già la misura di un inserto, fatta come vi ho fatto vedere prima, con il quadernone, il timbrato, nella parte bianca, che è interna. Praticamente, voi avete, se questi qua sono in uno, due e tre punti, avete già il vostro inserto, cioè, tagliando qua e qua, andate a, togliere la parte, ovviamente, di questi, di questi segni a pagina, la parte qua, che è iconografica, soprattutto interna, dove c'è, fax, cellulare, email, eccetera, quindi vi rimane, esattamente, la parte, come dire, a righe, quindi bianca, dove si può assolutamente scrivere. Magari togliete il cartoncino, lo utilizzate, potreste utilizzare il cartoncino rovesciato, quindi diventa bianco, in modo tale, che avete già il cartoncino in sé, per fare il vostro inserto, togliendo questa parte. Inoltre, non buttate via, ovviamente, questi, perché sono già plastificati, si possono ottenere, dallo scarto, vi verrà una specie di linguetta, che vi potrà servire, poi, da incollare, e utilizzare, per esempio, per indicare qualcosa, nel vostro inserto, ad esempio, non so, l'iniziale di B, di un mese, oppure una particolare, se studiate una lingua, per esempio, l'inserto per lo studio della lingua, le parole che iniziano con OP, una specie di rubrica, dei vocaboli della lingua, che state studiando, eccetera. Altri ricicli, sono questi, sono sempre parti di agende, ad esempio, questi sono già degli inserti a 5, che si possono utilizzare, indipendentemente da questi simbolini, potreste, per esempio, prendere, un foglio di carta bianca, un foglio di carta di questa qui gialla, che ovviamente staccate, bianca, gialla, e alternare, un pezzo di, un altro foglio di carta scrap, una busta, della spesa, una pagina di un giornale, e fare, stratificare, e fare, un vostro inserto, con diversi, diverse tipologie di carta, questo ovviamente, è per l'epatite, di quella carta, particolarmente bella, o particolarmente differente, che, dà un senso godurioso, nell'atto in cui, si va, a sfogliare, altri, spunti, sono, vecchie agende, massacrate, queste sono, vecchie agende, non buttate via, assolutamente, potreste riciclare, quella che è il numero, anche il giorno, da incollare, eventualmente, ma, se fate, ad esempio, un inserto, con carta, diversificata, potreste prendere una pagina, e utilizzarla, oppure, potreste farci, il sistema, che vi ho fatto vedere prima, di quella che è la brochure, dei vini, da incollare la pagina bianca, magari messa di sbieco, magari, bordata con, un motivo a pizzo, per dire, o ondulato, di una forbice, scrap particolare, scriverci sopra, e fare una specie di diario, di un viaggio, ancora, ci sono, queste vecchie agende, dove potete prendere le parti, queste, tenere il foglio bianco, o addirittura, i numeri, quindi, tutto è riciclo, anche il mese, ad esempio, io, nella mia pocket, da borsetta, che utilizzo, non una, un Midori, ma ancora una pocket, perché mi è molto pratica, in quanto si possono mettere fogli, togliere, cambiare, eccetera, io utilizzo tutti i pezzettini, di questo tipo, che foro con l'arapesco, e ho tutti i miei, dei pezzi di carta, ve la posso anche far vedere, questa qui, purtroppo, ho dovuto mettere dentro l'astuccio, perché, io odio, questa tipologia di agende, perché con l'andare del tempo, poi iniziano a rompersi, o si rovinano, e mi spiace molto, poi qua, si sta già spaccando la pelle, e ok, che l'ho comprata, già di seconda mano, da una ragazza di cartopazze, la Teresa, però, insomma, non per questo, mi deve essere tenuto male, ecco, quindi vedete che io ci metto dentro, dei fogli, che ho forato, di vecchie agende, dove vado a scrivere, e, non ho, sui, tuttissimamente, nessun problema, a usare questo tipo di ricambi, poi, altre idee, per fare il, il, le pagine, sono, veramente diverse, vi posso far vedere, per esempio, questo è un omaggio, che io avevo ricevuto, da, da, Aliexpress, ho calendato, al 2015, e, se avesse avuto, forse, un bambino, o comunque, qualcuno, a cui regalarlo, è molto bello, c'era tutto il mensile, da prendere, dietro, è molto bianco, e quindi, va benissimo, per fare, delle pagine, per una 5, dove, si alterna, la parte, un po' colorata, quindi, non avete bisogno, di timbrare, di attaccare niente, perché avete già, un particolare motivo, e, dietro la parte bianca, per scrivere, quindi, anche queste cose, tenetele, come anche, si possono fare, degli inserti, andando a riciclare, le famose, tovagliette, dei vari ristoranti, andate dai cinesi, hanno della carta bianca, o, anche, simili scrap, che sono fantastiche, oppure, se volete fare un insert, per esempio, è deligia, sul gruppo, Facebook, metteva in evidenza, come, si può prendere, la carta, vendono i pacchi di carta, per, assorbire l'olio, dei fritti, è una carta, tipo paglia, è carta paglia, di fatto, e di conseguenza, si possono fare, gli inserti, con quella tipologia, di tovagliette, adesso non so, il costo del pacco, però, insomma, in caso, andate in un ristorante, avete la tovaglietta, di questo tipo, uscendo, abbiate un po' di faccia tosta, e dite, oh, avete le tovagliette così belle, posso averne una, non macchiata, per ricordo, eccetera, così come anche i tovaglioli, per fare, un insert, e via, queste sono tovagliette, un po' particolari, perché mi vengono, dalla, dalla Colombia, e vedete, che hanno, diverse scritte, qui addirittura, c'è il menu, è molto simpatica, e le tengo, ogni tanto, le metto all'interno, dei miei inserti, come scritte, oppure come, vendimenti, eccetera, quindi, altre idee a riciclo, sono le, tovagliette, alla fine, andrete in giro, con, come dire, la, la, la perversione visiva, di andare, ad individuare, tipo radar, ogni tipologia, di superficie di carta, di superlettile, di carta, per riuscire, a fare queste cose, allora, passiamo ad altre idee, questo, è un piccolo passport, che ho fatto, con carta di riciclo, dei, biscotti, adesso, vi faccio vedere, che cosa si ottiene, allora, ci sono delle carte, io ho tutto in buste, quindi, ci sono delle carte, per esempio, la, le fette biscottate, che in casa mia, si mangiano, sono quelle tonde, ok, giusto per intenderci, e sopra sotto, hanno, questi coperchietti, di chiusura, quindi, una volta finito il tubo, voi avete, questo, più questi due, più anche il pezzettino, di carta, un po' più sottile, che fa, da involucro esterno, che è questa, ok, che è tipo cerata, questa qui, si può inserire, all'interno di un inserto, scriverci sopra, soltanto con una bic, con la stilografica, o con un, no, che non regge, un pennarello, no, quindi un tratto penna, no, con un pennarello, di carta, di chiostro indelebile, si, però, trapassa dall'altra parte, quindi, io le utilizzo, in particolar modo, per fare delle bustine, poi vi parlo, delle bustine, anzi, potremmo parlare subito, delle bustine, potete tenere, questa tipologia di carta, potete tenere, della carta da pacco, normale, ad esempio, boh, non so, vi faccio vedere, ok, io arrivo, anche a tenere, il caffè, Boldori, Nino Bixio, di Cremona, pasticceria, perché, ci faccio, eventualmente, delle bustine, mi piaceva molto, non tanto, per la carta in sé, perché, non è la carta che si può scrivere, ma questo dettaglio, del portico, perché questa pasticceria, sta al di sotto, di un portico, però, io con questo, questo, oppure, con, le copertine, di, quaderni vecchi, questo qui, era il quaderno, delle scuole, vedete che, io ho trovato, i quaderni, che mia mamma, tiene, religiosamente, io ogni tanto, ne prendo uno, e vado a riciclare, un po' di carta, così, lei non se ne accorge, e, con queste, copertine, potete fare, appunto, le copertine, oppure, si possono fare, delle buste, poi, torniamo i biscotti, salto un po', da una parte all'altra, le buste sono, o queste, non buttatele via, quando le ricevete, per la, la posta, nella posta, che possono essere, strato colto, buste, vediamo, ne avevo un'altra, questa qui, che è arrivata, per l'altro, settimana scorsa, sulla richiesta di offerta, non buttatele via, perché potreste aprirle, e avere, il vostro, modello, carta modello, per poi, fare i bordi, su un pezzo di carta, di questo tipo, per esempio, carta regalo, che avete tenuto, di un regalo, di qualcuno, di un anno, o di qualche anno precedente, ci fate, su il vostro, carta modello, i bordi, ovviamente, ritagliate, e poi avete, appunto, il modello, per fare una bustina, oppure, avete delle brochure, di vario tipo, vi faccio vedere, questo è, di una scuola, di fotografia, di Bologna, che aveva, una carta, e dei motivi, molto belli, e io ci ho fatto, una bustina, potreste prendere, le bustine piccoline, di questo, di questo modello, aprirle, e fare, un cartamodello, magari su un cartoncino, e poi sovrapporlo, sulla carta, e ritagliare, e avere, poi, la possibilità, di fare una bustina, questa in realtà, non è fatta, con un cartamodello, ma è fatta, con questo strumento, per fare, le buste, che si compra, nei negozi specializzati, per scrap, costa dai 24, io l'ho trovato in offerta, fino ai 30 euro, dipende, e avete qua, tutte le dimensioni, della carta, e la linea, per poter incidere, fare il punzonatore, per poi, eccetera, se guardate la marca, e fate una ricerca, su internet, trovate dei video dedicati, non ve lo faccio io, perché, io lo uso, in modo molto, veloce, si possono fare, addirittura, delle scatoline, ci sono davvero, tante cose, che si possono fare, scatoline regalo, bustine regalo, eccetera, eccetera, vi dà le dimensioni della carta, appunto, la linea, e poi, avete la piegatura, questa tipo, il punzonatore, fa sia la stondatura, dell'angolo qui, e sia questa, particolare, V aperta, per poi, riuscire, ovviamente, a piegare, quindi, anche le brochure, illustrative, di cartoncino, di mostre, sono ottime, per fare, da tenere, per fare, appunto, bustine, porta scontrini, eccetera, eccetera, tornando ai biscotti, allora, voi avete questa, tipologia, allora, si può essere, questa, oppure, la mia preferita, è questa, che è un po' più scura, e di solito, lo trovate, nei biscotti secchi, nei frullini, novellini, queste cose qua, se voi lo mettete, in un lavandino, con un po' d'acqua, a bagno, questi due strati, si scollano, e quindi, alla fine, voi ottenete, adesso ve lo faccio vedere, uno strato ondulato, questi sono stirati, quindi, vi viene molto ondulato, questo è, appunto, stirato, e poi, vi viene la parte, se vogliamo, un po' più, un po' più bella, che è, leggermente tramata, questa qui, e quindi, a righe, però, è di un cartoncino, delizioso, non saprei, come altro definirlo, un cartoncino, talmente buono, dal punto di vista, qualitativo, che, vi permette, di usare la stilografica, e, l'inchiostro, se lo beve, lo assorbe, ed è fantastico, io vi faccio vedere, che sono, questi qui, altri biscotti, sempre fette biscottate, eccetera, quindi, non buttateli via, perché, sono ottimi, da questi residui, qui, che si staccano, anche questi, ovviamente, una volta, staccati, le due parti, con molta delicatezza, le faccio asciugare, poi, eventualmente, li stirate, in modo tale, ad avere, un bel foglio piatto, questi qui, possono essere utilizzati, essendo tondi, per fare, dei tag, oppure, ci potete timbrare, tanti piccoli, francobolli, per esempio, come faccio io, e ritagliarli, con una forbice, dentellate, avere l'effetto, francobollo, da attaccare, quindi, come elemento, scrappa, anche per fare, degli, degli album, di scrapbooking, questa carta qui, potreste utilizzarla, anche come carta, timbrandola, oppure colorandola, con, l'inchiostro, a spray, eccetera, allora, vi faccio vedere, in conclusione, ah no, altro elemento, dicevo, sono le buste, se voi avete, una busta, ci sono molti, tutorial americani, dove, loro prendono, l'inserto, avevo, vabbè, mettiamo che questo qua, sia la copertina, dell'inserto, e voi, praticamente, fate, in questo modo, cioè, lo piegate in due, e fate così, con altri fogli, e qui avete una taschina, con la, la trasparenza, e quindi potete vedere, anche il contenuto, o così, un'altra idea, che vi posso dare, è quella di, aprire, la busta, quindi tagliare, qui solitamente si taglia, di già, aprire la busta, lateralmente, così, quindi, avrete alla fine, non so, dell'anno, o del mese, a seconda, di quanta, posta, ricevete, avete, una pagina, di inserto, fuori, con, eventualmente, queste, finestrelle, che sono, di, trasparenti, oppure, potreste, addirittura, rimuoverle, in modo tale, da avere, una sorta, di, punzonatura, e quindi, si vede, la pagina, poi, successiva, al di sotto, quindi, fa anche motivo, per esempio, per delle foto, composizione, di un inserto, di un viaggio, di ricordi, eccetera, l'interno, solitamente bianco, ovviamente, colorato in diversi modi, e potreste scriverci, quindi, una busta, va dentro l'altra, dentro l'altra, dentro l'altra, avrete il vostro picco, potete anche alternare, eccetera, oppure, prendere, una busta, un foglio, di giornale, un foglio, di carta, di biscotti, o di fette biscottate, un foglio, ricavato, da, una, una, una tovaglietta, un foglio, di carta bianca, un foglio di carta scrap, un foglio, eccetera, eccetera, e quindi, avete, il vostro inserto, so che, una volta, alla Lidl, c'erano le buste, colorate, oppure, vendono anche, dei pacchi di buste, bianche, o di, tipo, carta paglia, si possono acquistare, e fare un inserto, di buste, ecco, però, questo, ovviamente, è un inserto, fatto con busti, di riciclo, la busta, poi, funziona anche, per altri motivi, nel senso, che io le uso, abitualmente, i miei inserti, faccio vedere qua, nel mio inserto, io lo uso, perché, lo metto, ad esempio, dove, alla fine, o lo incollo, semplicemente, lo metto così, e mi fa, da, tasca, per inserire, ricordi, scontrini, cose, bigliettini, che voglio ottenere, eccetera, si può eventualmente, incollare, o anche, col nastro del bioadesivo, avete una tasca, aggiuntiva, quindi, questo, è, altre idee, riciclo, così, ve le butto lì, se avete un vecchio, calendario, tenete, per esempio, i numeri, io, questo, lo sto usando, per, l'inserto, di dicembre, e, infatti, ovviamente, questa è anche, una bustina, che, è, fatta con, una carta, di un regalo, proprio fatta, a mo' di bustina, piegata qui, ho messo lo scotch qui, e quindi, una bustina molto semplice, non fatta con quello strumento, vi faccio vedere, appunto, il, un inserto, eh, tutto fatto, questo di dicembre, tutto con carta, dei biscotti, ne ho tenuto davvero tanta, ne ho raccolta quasi un anno, e, vabbè, vi faccio vedere qualche elemento, anche se è un po' personale, però, ad esempio, eh, qui, tiene molto bene il colore, vabbè, qui è timbrato, qui è tutto disegnato, eccetera, eccetera, poi ci sono delle parti, vabbè, questa è l'effetto, quindi è un po' increspato, perché alcuni avevo stirati, alcuni no, vedete che c'è, tipo a righe, quindi si può scrivere, e poi, io scrivo in penna stilografica, se lo faccio vedere da lontano, ci sono dei washi tape, e tiene praticamente, di tutto, di tutto e di più, faccio anche dei disegni, insomma, è, è molto, con la, con la penna stilografica, è davvero, eh, notevole, ecco, questa è una gita, una gita bellissima, tra l'altro, che ho fatto con mio fratello, a Borghetto, sul Mincio, e vedete che, ho appiccicato, ho scritto, quindi, è una carta ottima, soprattutto per la penna stilografica, è davvero ottima, se, non volete fare, tutto, con un solo tipologia di carta, vi faccio vedere, allora, vediamo degli esempi, concreti, di inserti, ad esempio, questo qui, che è il mio, A5, che utilizzo per i viaggi, adesso, io, ho fatto due inserti, perché devo fare, il resoconto, di due viaggi, adesso, ve li faccio vedere, in due formati diversi, allora, uno, è un formato A5, e l'altro, è un formato, un po' più piccolo, perché io utilizzo, questo, questo qui, tra l'altro, ha una copertina, fatta con, il metodo che vi ho fatto vedere prima, con la carta di riciclo, e poi la stampa, e l'acquarello, ecco, e quindi, metto questo, nell'elastico, più lungo, quindi, dei due fori superiori, e questo, invece, è nell'elastico, più corto, dei due fori inferiori, in modo tale, da utilizzare, tutti e due gli elastici, allora, come l'ho fatto? Questo qui, in modo molto semplice, copertina, fatta con, quadernone, ok? Qui, in chiostra spray, con maschera, questa immagine, ricavata da, un giornale, e poi, ho alternato le pagine, queste qui, sono pagine di una rivista, la rivista che vi ho fatto vedere, di Cisalfa, prima, delle immagini strepitose, con delle foto bellissime, quindi, non ho fatto altro, che prendere quelle, che mi piacevano di più, ed alternarle, alternarle, ok? Ci possiamo riuscire, a carta, dei biscotti, e di altro tipo, questa invece, è una carta, leggerissima, che trovate, di solito, all'interno delle borse, o nelle scarpe nuove, eccetera, quella carta, che serve per fare i pacchi, o per tenere la borsa in forma, o avvolgere le scarpe, ecco, io riciclo anche quella, giusto per dire, a che punto, stirandola, con il caldo, che ho stirato tutto, poi alla fine, questo, che è una vecchia cartina, di Parma, l'inchiostro, è passato qui, quindi, mi ha dato questo effetto, e quindi, c'è un altro metodo, cioè, se trovate queste cartine, dove sentite che l'inchiostro, fate così, si perde, non so come dirvi, è una particolare tipologia di carta, si sente solo al tatto, potreste usare, un foglio di carta bianco, o dei biscotti, o comunque, ovviamente non colorato, col ferro stirare, e avete, poi, si imprime, per esempio, questo che è il tracciato, si è impresso qui, che era un foglio di carta, assolutamente, bianco, e l'effetto mi piace molto, come vedete, ho alternato appunto, la rivista, con questa carta lucida, dove io posso, qui benissimo scrivere, qui scrive nelle parti bianche, di tenermi la stella alpina, come disegno, qui ovviamente, si scrive liberamente, qui ci posso mettere, una pagina, per esempio, di una vecchia agenda, e incollarla, e farci la pagina, ok, questo abbiamo già visto l'effetto, qui ancora i biscotti, qui è una rivista, dove c'è questa bella immagine, qui, il solito, questo, ancora così, ecco vedete, giusto per farvi vedere, come si alternano le pagine, ovviamente, ci sono alcune pagine, che non sono della dimensione, quindi le sposto, una su, una giù, per dare uno spessore, più o meno omogeneo, e viene, questo effetto, così, lo faccio vedere rapidamente, con delle immagini, che mi piacciono, eccetera, 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 l'altro invece, è un po' più bellino, se vogliamo, piccino, sempre lo stesso sistema, la nostra cartelletta, con, solito, qui addirittura, era il motivo, dello stampo a random, poi ho messo su, l'inchiostro, con la mascherina, quindi, una sovrapposizione, di tecniche, ecco, questa qui, è un'idea riciclo, proprio patologica, estrema, dove, avete presente la pellicola, che si mette sul cellulare, fa una parte di plastica, una parte adesiva, tenete, le parti, che non dovete, cioè, che dovreste buttare via, tenetele, e poi ci potete mettere dentro, per esempio, una foglia, o un franco bullo, qualcosa da conservare, e rimane a piatto, e rimane all'interno, così, ecco, questo è, appunto, patologia pura, anche qui, come vedete, c'è una pagina di una rivista in apertura, con un motivo che mi piace molto, qui, una foto della montagna, qui, ho un'alternanza di sola carta di biscotti, io adoro questa carta, qui, però, alcuna è anticata, che avevo anticato con l'orzo, in grani, quindi, alcune addirittura sono grani, che si sono fissate la carta, mi piace molto, altre invece, è carta assolutamente normale, qui ci sono delle immagini, ve lo faccio vedere molto velocemente, perché questo è molto semplice, fatto con questa alternanza di immagini da rivista, e carta di biscotti, di un albero bellissimo, all'interno ho messo questa foto, tipicamente autunnale, con ghianda e foglie autunnali, qui abbiamo un albero, qui addirittura, attrezzatura, questo è un pezzo di ghianda in grande, sempre l'alternanza di carta, invecchiata e non, eccetera, per concludere poi con questo, che mi piace molto, come scritta, della pagina della rivista, ecco, questo qui farà parte di due inserti, che devo completare, eccetera, eccetera, del mio A5, dedicato ai viaggi, poi vi faccio vedere un altro modo, per riciclare quella che è la carta, da regalo, adesso aspettate un attimo, perché devo tirare, allora è finito, non la trovo più, è possibile, sarà assolutamente qua, facciamo che interrompiamo il video, e ne facciamo addirittura una terza parte, così vi faccio vedere poi altre cose, perché sono già 32 minuti, è lunghissimo, a dopo, età,